La situazione meteorologica sulla nostra regione nel fine settimana sarà caratterizzata dall'avvicinamento di aria un po' più umida negli strati medio-bassi a causa della disposizione da nord-ovest delle correnti in quota. Questo perché confluiscono una saccatura moderata atlantica attualmente sulla Francia e una depressione retrograda più fredda che arriva dall'Europa orientale. Per quanto riguarda sabato prevediamo cielo in genere da poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, potrebbe però essere possibile temporaneamente maggiore nuvolosità e forse qualche isolato rovescio specie al confine col cadore. Temperature in lieve aumento le minime, avremo valore intorno ai 10-11 gradi per quanto riguarda la pianura, intorno ai 15 sulla costa, massime tra 19 e 22 gradi sia pianura che sulla costa. Zero termico oltre i 3000 metri in montagna. Domenica avremo nuvolosità variabile, probabilmente un po' più consistente in montagna e saranno possibili rovesci anche temporaleschi sparsi in giornata. probabilmente saranno più frequenti nel pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature rimarranno sostanzialmente stazionare, quindi ancora tra 12 e 21 gradi, 22 gradi in pianura e tra 16 e 20 sulla costa e in serata poi sulla costa entrerà bora moderata. Tempo tra il variabile e il temporaneamente instabile anche il lunedì, con un cielo da poco nuvoloso variabile, forse qualche ulteriore rovescio poco probabile, ancora bora moderata sulla costa. Poi martedì evoluzione ancora incerta, probabilmente prevarrà ancora nuvolosità variabile. E dall'osservatorio a metodo dell'ARPA, Arturo Pucillo, vi saluta.